ciao a tutti e benvenuti da tina e pippa e io e oggi siamo qui per recensirvi softy bent e eccoli qua ragazzi i nuovissimi braccialetti della sbabam oh mamma mia ecco ecco ci sono tantissime cose da sbabam tantissimi box si bravissimo fate anche qua anche in questo video siamo con un box intero della sbabam come potete vedere abbiamo già appeso il nostro poster dei softy bent bellissimo ragazzi come appunto fa la sfonda al nostro video sono dei nuo ci sono dei nuovi colori fluo e si e che brillano al buio ragazzi con i bellissimi metteremo delle foto poi alla fine del video con le alta qualità quindi sono fatti molto molto bene ragazzi qui ci sono mai categorie si 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 bravissimo infatti qua ai lati della scatola mostra varie categorie ad esempio ne dico alcune animali natura lettere numeri cuore amore sport frutta verdura eccetera e cosa bellissima ragazzi qual è è che in ogni bustina ci sono 14 braccialetti tutto a 1 euro e 99 cioè pochissimo avete tanti 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 braccialetti in particolare noi abbiamo questo box che è formato da 16 poi quindi avremo tantissimi braccialetti in base bravissimo bravissimo mi raccomando e non dimenticatevi di seguire la pagina della sbabam su facebook che su youtube ci sono piedi mi piace dare anche bravissimo allora il tempo io lo divido dobbiamo fare 14 a testa no sono 16 quindi 8 a testa ok e insieme alla rivista vi vi danno anche questo qui il libretto allora il magazine vediamo insieme cosa dice acqua ripete le offerte che ci sono sul sito della sbabam mi raccomando andate a vedere ci sono tantissime offerte poi c'è ancora storiella sugli animali all'inizio crediamo insieme quindi c'è anche come creare un acquirone ragazzi poi un po tantissimi giochini ah sì cosmo bambi inoltre potete avere il quindi potete avere anche uno sconto per andare all'olandia e quindi prendeteli mi raccomando così potete andare all'olandia divertirvi pagando di meno e poi poi dice finalmente te ne dico la 20 nuovissime spinny 2 evolution wow mi potete ricordi noi abbiamo recensito la prima serie vero e quindi questa qui è la seconda proprio ci sarà la terza la quarta quindi se volete che vi recensiamo la seconda serie cosa devono fare mettere un bel pollice in su se li hanno 15 mila no no dai tantissimi pollici pollici in su pollici pollici perché non l'ho ripetuto non lo so ragazzi allora vai vipo intanto posso vedere la compressioncina guardate che carina bellissima ah qua ci sono tutte le categorie che sono 2 4 6 8 10 12 16 ok 16 categorie quindi ecco quindi forse completeremo la collezione perché aveva 16 bustine 16 categorie quindi dai non vedo l'ora allora ah c'è anche il rupettino che vi facciamo vedere ah ok vi dice ok vi dice quale di che di che categoria si tratta ovvero lettere e numeri ok vediamo un po quale è ben trovato allora questo qui che sarà l'otto è una velocissima perché sono tantissime io la faccio dai veloce 1 2 bravissima poi abbiamo trovato anche il 9 con 6 poi il 2 poi vediamo un pochino sono veramente tantissimi ragazzi aspettate non riesco a metterlo qui che numero è ah questa qui è la lettera b guardate che carina questo qui poi questo qui la a guardate un po' bellissimo bellissimo poi anche senza farvelo vedere comunque abbiamo trovato anche la r il 4 bravissimo l'altro numero forse il 6 l'ho 0 si penso che sia no penso uno 0 oppure una i o una o poi questo qui guardate che carino questo qui ah questa è la i ok e poi vediamo un po questo cos'è cos'è questo qui ok il 7 che carino ok poi altri pacchettino subito tu facciamo anzi una cosa che ogni pacchettino poi ce li mettiamo eh dai facciamo così io mi metto l'uno ok dai anzi l'hai aperto tu quindi questi qua ti li metti tu mentre io apro il pacchetto si 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 un pacchetto sulle braccia bellissimo poi altre categorie di nuovo lettere e numeri eh tina si questo qui non mi parla tanto no vabbè anche se sta l'algo non mi importa mettilo mettilo pure così vediamo poi le nostre braccia alla fine del video saranno pienissime di cose allora wow quante cose questo qui ah il segno del più poi di nuovo quello quello di prima sembra una i un po strana poi la j poi c f di filippo poi d poi un pochino questa ah la j perfetto guarda c'è ragazzi sono tantissime la i poi questo qui guardate le mie braccia mi divertirete tantissimo anche a scoprire quali sono perché si contorgono un po' tutti quindi poi la g guardate bravo vai 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 bisogna riempirsi le braccia infatti è bellissimo con questi softy bits riempirsi tutte le braccia mettiamoci le braccia poi vediamo un pochino la m ok comunque sono tantissime ragazzi wow è la m ok adesso questi qui li metti tutti anzi no dai se non ci mettiamo tantissimo li mettiamo poi alla fine del video ok magari ne li mettiamo tutti anche no alcuni si va bene ok vipo vai secondo pacchetto per vipo vediamo un po' cosa ben trovato e di che categoria sono wow cambiamo un po' animali e natura allora ragazzi questo qui dovrebbe essere questo è un pinguino guarda che carino questo è un lupo questo è un lupo bravissimo cioè fantastico poi vediamo un po' questo qui che cos'è un delfino vediamo no è un canguro un delfino un canguro poi un altro pesce l'elefante l'elefantino bellissimo poi questo qui che sembra un volatile l'orso questo questo qui non lo so sinceramente scrivetecelo nei commenti chi sembra questo è un serpente poi si questo qui è molto molto strano quello che abbiamo trovato prima poi un altro questo qui pesciolini e un altro pesciolino perfetto passiamo ad un altro pacchetto ragazzi intanto guardate quanti sono bellissimi allora io ho trovato sport e tempo libero no vediamo un po' quale abbiamo quali sport abbiamo trovato aspettate questo qui è incollato ragazzi ok poverino è uscito allora ad esempio c'è quello di baseball anche che gioca a calcio bravissimo poi c'è ho visto prima quello lì sì quello lì ho detto che gioca a calcio ce ne due poi questo qui anche molto molto carina questo qui questo suishi questo qui dolf questo qui che salva bravissimo comunque sono tantissimi non ve li stiamo a dire tutti i ragazzi se non ci mettiamo una vita no metto ah giusto tocca pippa vai apri pure diamo un po' vai tu semplificata ok anzi premo le due alla volta va ragazzi così ci mettiamo meno tempo ok allora tu che categoria io cuore amore sì bellissimo allora amo cioè bellissimo lettere la labbra lettere tu lettere e numeri ok poi tvb no ragazzi questi qui amore sono troppo troppo carini che carini ragazzi il cuoricino con cioè le chiavi bellissimo poi vediamo un pochino si sono si è attaccato oh si è attaccato ragazzi vieni vieni la U ma sono proprio ingarbugliati ok c'è una U la U sì bravissima fa vedere magari quelle che abbiamo fatto vedere prima guardate che bello il cuore bellissimo cioè ragazzi sono fantastici questo qui questa qui è una J anzi una P ho sbagliato una P oh guarda non li facciamo bene si bravissima comunque tante sfettrine poi altri due vai ok bustine mi raccomando ragazzi scriveteci nei commenti se anche voi avete preso questi softy bands e quali magari avete trovato categoria dinosauri e draghi e io invece cibo e cucina miom 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 vediamo un pochino io ho dinosauri papi poi trovate la V siiii che bello del mio nome poi ho un cappellino no draghi no cibo e cucina allora un coperchio un cappellino e beh qui c'è un dinosaurio bravissimo una pentola c'è una cosa che non si capisce che cosa ah si è ingarbugliato poi questo qui è anche molto molto strano anche questo si poi wow che carino questo vedete la pentola fatta così bellissimo poi ok un chair oh la pentola intera bellissimo ragazzi questo qui non so che cos'è una bottiglia ok quelli che noi conosciamo scrivetecelo del commento il cappello del chef come quello che ha Pippone nella nostra puntata da cucina ok poi c'è dentro questi mettiamo vabbè c'è una montagna c'è una montagna ragazzi bellissimo mettiamola qui che li vedono ah ok bravissimo qua così vedete la montagna di softy di softy bands che crescono che cresce poi io categoria alieni e pianeti mentre io tu fiori e foglie che bello fiori e foglie allora un fiorellino io ho trovato si adesso sarà molto difficile capire come sono alieni cosa ah una licella che bello poi qui non so che cos'è non so cosa si sarà un un fiore che si apre bravissimo la stellina bellissima una foglia ma dove è una foglia wow falla vedere bellissima ragazzi poi vediamo un po' questa vita si sa che cos'è magari scrivetecelo dei commenti magari scrivetecelo dei commenti che cos'è si infatti non riescevo a capire bene che cos'è o noi siamo strani non lo capiamo oppure non lo so comunque scrivetecelo nei commenti vedete anche la manina aliena bellissima poi bippo dai veloce altro pacchettino quanta montagna se stiamo al terzo ultimo pacchetto bravissima io ho categoria dress e glamour quindi vestiti e glamour bellissima io ho la categoria auto e aerei no bella categoria c'è maschio femmina bellissima allora wow i pantaloni questo qui che cos'è un'auto si può essere poi questo qui ne sappiamo che cos'è questo qui sembra come un vestitino poi guarda che carino un top questo qui non so che cos'è una maglietta cioè ragazzi sono troppo belli prendetene tantissime anche voi un furgone un furgone un furgone bravo wow che carini ecco di nuovo quel dai dai andiamo avanti ok comunque troppe troppe cose belle vai partiamo la montagna aspetta benissimo poi andiamo avanti anche categoria nuova sun e summer quindi l'estate che è arrivata ragazzi contentissima tu peace and love yeah pace e amore pace e amore ok la mia ecco già mi sono scordata ragazzi ho una categoria ho una testa sbadata sono molto sbadata questo qui non so ragazzi questo qui era è la barcavela una chitarra una chitarra bravo perché è bella un cono gelato buonissimo poi il sole naturalmente la stella marina gli occhiali gli occhiali bravo gli occhiali anche tu bravo si gli occhiali la nota musicale ok direi subito di passare all'ultima bustina ragazzi al cestino bravissimo ultima come vi abbiamo detto le mettiamo solo alcuni perché se lo si 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 naturalmente alla fine le mettiamo solo alcuni facciamo così io voglio fare una sfida chi mette più bacioli vince no no il video sta durando tantissimo già quindi facciamo vedere l'ultima bustina e poi le nostre braccia imbatte da questi softy bands allora io un po' io animali e pet e io tu spettacoloso vediamo un po' che categoria prego pippo no ah frutte e verdura si strappate dunque frutte e verdura categoria nuova allora il coniglietto bellissimo un limone un limone bravo possiamo potete anche fare una challenge con questi softy bands per esempio indovinare che cosa che cosa sono e magari anche chi mette più bacioli vince ok così poi vediamo un pochino un topolino ragazzi dun 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 invasioni di topolini poi un kangoo no una talpa si un albero un albero un cavallo un albero un albero no un albero no perché aspettate dov'è dov'è i cattolini vabbè no non penso perché era frutta e verdura quindi l'albero forse era un cavolfiore ma molto probabilmente ragazzi guardate le nostre braccia bravissimo non ci sono non c'è più la montagna di softy bands perché dove sono sono qui sono qui state tranquilli noi abbiamo è nascosti ce li abbiamo tutti qua tutti qua più di 200 bracciali qua ragazzi sono le nostre braccia quindi ci vediamo un anno poi guarda che belle braccia colorate molto molto carine mi raccomando anche voi prendete tantissimi tantissimi pacchetti di softy bands adesso noi ci vanno a fare una doccia perché a metterli tutti abbiamo sudato bravo sì e mi raccomando fatevi tantissime foto con le vostre braccia piene di softy bands così magari taggateci in queste foto come tnpp review sia su instagram che su facebook cante bacciate bravissimo quindi se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su se siete nuovi iscrivetevi al nostro canale così per ottenerti attivire vi resta amici commenti resta 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 bomba bravissimi vi passateci bellissimi commenti come fate sempre noi vi ringraziamo tantissimo e quindi saluti da tina e ciao ciao